Comunque per la prossima, adesso aspettiamo un attimo il nonno che si riprende per bene Tanto io sto weekend ho da fare dei giri, come sapete stasera sto a Parma, domani sera a Milano, domenica a Roma Quindi, awo, bel weekend pieno, sta pieno Però dicevo che la prossima settimana ho in mente uno scherzo veramente figo Perché loro ascoltano sempre Alexa, ma se arrivasse una bolletta da pagare perché ascoltano troppo Alexa Secondo voi come la possono prendere? Abbiamo una macchinetta nuova, vediamo se è schisa No, la fa molle, niente schiso Ecco perché non ve lo faccio più, non fa più lo schiso Niente, adesso questa è la... l'ho sciolto Ario solo, ario con me Ario solo, ario con me Sei contento? No, sei bravo Ario solo, ario con me Ario solo, ario con me E' una macchinetta 5 Ugo vai, bravo, vai, batti 5 Vai, bravo, batti 5, batti 5 Ugo, vai, batti 5, bravo Batti 5, grande, vai, dammi il 5, vai, dammi il 5 Bravo, bravo, bravo sto cazzo, bravo, bravo sto gatto, sembri una lince, guarda quanto sei bello, guarda Che è? Che è questo? Ma la stufa lì Porca maia, ma che è la stufa secondo te? Oh no, di che è la ario solo? Ma di che cazzo mi fa dire che le fa? Di che sa? Da che ne sa? Da che ne sa? Da che sa la ario solo? Da figa No, ma fammelo sentire Madonna davvero, vai vai vai, annusa bene, vai vai Vai, vai, bene, bene, vai No, no, non ne leggo più Eh, rimani così, ta